Entra anche tu nel mondo di K-Club. Entra nel caldo mondo della pelle e dello shirling. Alto design e buona qualità su misura per tutta la famiglia. K-Club produce direttamente i suoi modelli con cura artigianale e te li propone nel suo negozio di via Vittorio Veneto 41 a Figline Valdarno. K-Club, l'elegante modo per garantirsi un caldo inverno. Grazie a tutti.